Che sei? Lugassete Lugassete supera Paolo, viviamo in Lugassete Oggi ci sono 4 fermoni che non vanno un cazzo Quindi sarà facile fare la opera Penso anch'io Giusto Vico Poi uno come te che No ma tu che arrivi a girare Con la Con la scatola del detersivo con le viti Il top Mamma mia Si sprega Lugassete Si sprega Mamma mia Ma lo stivale che hai combinato Lo stivale che avevo detto Troppo bluino Troppo gas e te Troppo bunda nei piedi No 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 Che giornata Tanti ragazzi fortissimi oggi Mick Henry Ghh John Megan Paulucci Dai Quella giornata comincia a fare caldo È dura Aveva tanto che non andavo in modo da quando mi sono fatto male alla mano poi ho fatto due settimane di pausa sono andato in moto mi sono presentato alla gara la gara mega cappottone al primo grosso quindi mi sono ritirato un altro po' di giorni di riposo e sono tornato oggi in moto sicuramente stare un mesetto quasi fermo non aiuta poi il caldo è terrificante i ragazzi vanno fortissimo e quindi per me è lotto a provare a seguire però ci siamo dai po' No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no!